Tragedia sull'autostrada Messina-Catania. Dopo otto giorni è morta, la donna coinvolta nell'incidente avvenuto martedì scorso all'altezza dello svincolo di Fiume Freddo. La vittima, una turista brasiliana di 53 anni, si trovava in vacanze in Sicilia con il compagno quando un autocarro e due autovetture si sono scontrati causando tre feriti, tra cui la donna ora deceduta. La vittima era stata ricoverata in condizioni gravissime per suo reparto di rianimazione e anestesia dell'ospedale Cannizzaro di Catania, ma purtroppo ieri sera ha perso la vita sul posto dell'incidente avvenuto in una giornata caratterizzata dalla pioggia e dall'asfalto scivoloso. Erano intervenuti mezzi del 118 e una aliambulanza che aveva trasportato la ferita in gravi condizioni all'ospedale. Dopo la tragedia è stato deciso di donare gli organi della donna, cuore, fegato, reni e corne, che saranno utilizzati per salvare altre vite.